Amici di Vestire in Borsa Caccia di Dividendi, bentornati e bentrovati, buongiorno a tutti, buona domenica. Come abbiamo visto, giovedì e venerdì sono state due giornate di passione, soprattutto per chi investe nei titoli tecnologici del Nasdaq. La domanda che ci facciamo adesso è cosa attendersi dei mercati nella prossima settimana, nei prossimi mesi. Quindi andiamo ad analizzare un pochino la situazione che si presenta attualmente sui mercati. Ovviamente è difficilissimo fare previsioni, ci possono essere sempre delle cause esterne ai mercati, di tipo politico, di tipo economico o di tipo anche legato alla situazione sanitaria, che chiaramente possono sconvolgere ogni previsione. Cerchiamo però di fare un'analisi fredda della situazione, ci appoggeremo alla app Investing. L'avevo già presentata in uno dei miei primi video, andiamo indietro più o meno al mese di aprile. La rivedremo ancora, molto molto fluida. I dati solitamente sono precisi, è comunque opportuno spesso fare delle doppie o triple verifiche, soprattutto sui singoli titoli, perché talvolta possiamo notare delle discrepanze tra i dati che vengono rilevati. Allora, come sempre, prima di partire vi chiedo di aiutarmi a supportare il mio obiettivo di educazione finanziaria mettendo un bel like a questo video. Ricordo che un investitore informato è un investitore che non ha paura dei rischi che si possono presentare, che sono proprio insiti nell'investimento, non esiste un investimento privo di rischio. Un bel like quindi per supportare gratuitamente questo canale. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale YouTube Investire in Borsa a Caccia di Dividendi. Se volete ricevere le notifiche, quindi una segnalazione ogni volta che ci sarà un nuovo video, schiacciate sulla campanella. Partiamo subito con l'analisi della situazione. Allora, io mi sono fatto un bel foglio di calcolo che mi tengo sempre aggiornato una volta al mese. Si aggiorna poi automaticamente con le quotazioni correnti. Cosa vediamo da questo foglio di calcolo? Tra l'altro che potrete vedere nel mio approfondimento mensile che uscirà veramente a brevissimo. Allora, saldo del mese di agosto. Fuzzimib più 284, DAX più 513, Eurostox più 3%, Standard & Poor's più 7%, Nasdaq quasi un 10%. Rendimenti da paura, direi, nel mese di agosto. Il saldo year to date, ovvero dall'inizio dell'anno. Fuzzimib estremamente sottoperformante, meno 16%, il DAX sta quasi raggiungendo i livelli di inizio anno, meno 2%. L'Eurostox molto indietro, meno 12%, lo Standard & Poor's nonostante tutto quello che è successo segna un più 8%, il Nasdaq addirittura più 31%. Livelli veramente paurosi. Dai massimi del 2020, che erano stati toccati a febbraio-marzo di quest'anno, il Fuzzimib è ancora indietro di un 24%. Lo Standard & Poor's ha superato i massimi precedenti, quindi è ancora sui massimi. Qui la quotazione è aggiornata alla situazione di venerdì, quindi già con i ribassi che ci sono stati, l'Eurostox è addirittura indietro di un 15%. Quindi cosa possiamo notare? Che nonostante le difficoltà, nonostante il lockdown, nonostante la situazione Covid, coronavirus, nonostante la frenata dell'economia a livello globale, i mercati soprattutto in America hanno continuato a correre. Quindi partiamo da questa base di partenza, nonostante tutto i mercati americani sono in guadagno dall'inizio dell'anno. Altra premessa, lo Standard & Poor's è chiaramente l'indice americano di riferimento, ormai ha soppiantato a livello di importanza il Dow Jones, molto molto ampio, ricomprende le 500 maggiori azioni a livello di capitalizzazione, in realtà le azioni sono 505, perché 5 azioni hanno una doppia quotazione. La azione più importante all'interno dello Standard & Poor's è Microsoft, con un peso del 5,66%, Apple al secondo posto con un peso del 5%, poi Amazon 4,26%, Alphabet, ovvero Google, al quarto posto con l'1,94%, e di nuovo Alphabet, classe A, stavolta prima era classe C, con cui non si vede comunque un valore appena superiore all'1,5%. Non sono dati aggiornatissimi, è quello più aggiornato che ho trovato, però cosa vuol dire questo? Che siamo davanti tutti a titoli tecnologici, quindi lo Standard & Poor's è estremamente sensibile all'andamento dei titoli tecnologici. Cosa abbiamo visto in queste ultime due giornate di borsa aperta? Che in particolare il Nasdaq ha perso molto, Nasdaq che ripeto è l'indice di riferimento dei titoli tecnologici, ha perso anche lo Standard & Poor's, che come vediamo ha tra i pesi massimi dei titoli tecnologici, ha perso molto meno il Dow Jones, che come vedremo invece è più incentrato su titoli industriali, comunque non tecnologici, un pochino più diciamo un settore tradizionale. Quindi, seconda premessa, terza premessa, vediamo il PE di Schiller, un indicatore che ho già utilizzato in passato, rapporto PE, rapporto Price Earning, è un rapporto fra prezzo e utili. Più basso è questo rapporto, più in teoria è conveniente investire nel mercato. Possiamo vedere come siamo vicini a livelli massimi, soltanto nel 2000 eravamo a livelli più elevati quando questo multiplo aveva raggiunto valori di circa 45 punti, in particolare 44.19 nel dicembre del 99. Ricordiamo tempi della bolla internet, quindi bolla tecnologica negli anni 2000. Con questo non voglio dire che siamo davanti di nuovo a una bolla del settore tecnologico, però è una coincidenza. C'è anche da dire che attualmente il rapporto prezzo-utili è sicuramente condizionato da una parte, da una diminuzione degli utili a livello generale. Chiaramente con l'effetto pandemia gli utili di molte aziende sono calati, quindi questo rapporto chiaramente aumenta. Se diminuiscono gli utili, i prezzi tra l'altro sono anche aumentati, questo valore chiaramente aumenta nel tempo. Un altro fattore che può condizionare questo valore e comunque la crescita delle borse azionarie è la mancanza di alternative, ovvero i cosiddetti investimenti risk-free, come possono essere i titoli di Stato, soprattutto quelli di Stati considerati solidi, come magari gli Stati Uniti, la Germania, la Francia, i titoli nordici delle nazioni nordiche a livello europeo hanno rendimenti negativi o appena appena positivi. Quindi cosa vuol dire? Gli investitori in questo momento, se vogliono ottenere rendimenti, sono fra virgolette costretti a buttarsi sull'azionario con tutti i rischi del caso. Chiaramente bisogna essere coscienti che l'investimento azionario comporta a sua volta dei rischi. Quindi questa è la terza premessa. Andiamo a vedere l'applicazione Investing. Cosa è successo? Venerdì i mercati hanno chiuso in negativo un pochino in tutto il mondo, si salva soltanto il Brasile, l'indice Bovespa ha segnato un più 0,52, ma andiamo a vedere un pochino i mercati più importanti al mondo, in particolare gli Stati Uniti. L'Italia si è clamorosamente, fra virgolette, salvata con un misero meno 0,82, anche giovedì aveva contenuto le perdite, ottima la performance anche di Madrid. L'Ibex ha chiuso con un meno 0,23, molto più pesante il DAX con un meno 1,65, il Nasdaq meno 1,27, Standards & Poor's meno 0,81, Dow Jones meno 0,56. Le valute possiamo vedere come il dollaro è a 1,18, sono già alcune settimane che viaggia tra l'1 e l'18 sfiorando l'1,20. Le criptovalute, a chi potessero interessare, il bitcoin comunque è sempre sopra i 10.000 dollari, a me le criptovalute non mi interessano, materie prime, il greggio sta soffrendo, il greggio è sceso sotto i 40 dollari, il Brent è a 41, comunque ancora lontano dai minimi che avevamo registrato a marzo e aprile, l'oro è sempre vicino ai 2.000 dollari all'oncia. In particolare torniamo sugli indici, il Nasdaq avevamo visto come aveva perso tantissimo nella giornata di giovedì, vado a memoria, una perdita attorno al 5%, settimana estremamente negativa, dopo aver toccato un massimo di 12.074 punti, ha ripiegato vicino agli 11.000, poi c'è stato un leggero rimbalzo andando a chiudere a 11.333. Comunque insomma sono perdite abbastanza importanti nelle ultime settimane, vediamo come la giornata di venerdì era iniziata in maniera estremamente negativa, era sceso sotto gli 11.000 punti, in particolare 10.875 il Nasdaq, salvo poi limare le perdite nel finale di seduta. Anche lo Standard & Poor's ha avuto un andamento simile durante l'arco della seduta di venerdì, il Dow Jones, vediamo invece come abbia contenuto le perdite sia giovedì sia venerdì. Perdite molto più contenute, comunque ha toccato i massimi anche il Dow Jones in settimana, quindi la domanda è siamo davanti a un inizio di una bolla che scoppia, siamo davanti all'inizio di una nuova crisi, oppure siamo davanti a un normale ritracciamento, chiaramente non ho la sfera di cristallo, però posso eventualmente esprimere la mia opinione, condividete la vostra opinione, sia che siate d'accordo sia che siate in disaccordo, si tratta di opinioni, io non posso dare in questo caso verità assolute, secondo me si può trattare di un semplice ritracciamento, nonostante l'economia abbia avuto una lieve ripartenza dopo il crollo della primavera, gli indici hanno comunque recuperato i valori precedenti, quindi siamo veramente forse su mercati un pochino sopravvalutati, una correzione sarebbe addirittura salutare, una correzione, non prendiamo paura se fosse anche nell'ordine di un 10-15%, si aprirebbero in realtà spiragli interessanti di acquisto, ad esempio il Dow Jones potrebbe scendere verso quota 25.000, lo Standard & Poor's potrebbe avvicinarsi a quota 3.000, il Nasdaq potrebbe anche testare una discesa al di sotto dei 10.000 punti, soprattutto in virtù della grande corsa di azioni ormai popolarissime come Tesla e come Apple. andiamo a vedere Tesla che ha perso veramente tanto nell'ultime sedute, era arrivata a 500 dollari, è scesa, addirittura un massimo di 502 dollari, è scesa anche sotto quota 400, poi è rimbalzata un pochino nell'ultima seduta, ma diciamo che un meno 20% se l'è beccato tutto quanto in poche sedute. Altra azione che ha corso tantissimo è Apple, la andiamo a vedere velocemente, eccola qui la quotazione su Wall Street, se noi facciamo app l, Apple, eccola qua, andiamo a vedere, dopo lo split ha avuto un rialzo veramente sostanzioso, ma anche comunque durante tutto l'arco dell'anno, possiamo vedere come si è cresciuta veramente in maniera straordinaria, dai minimi di marzo addirittura ha raddoppiato la quotazione, in settimana ha avuto anche lei la sua brava flessione, da un massimo di 134 dollari è scesa sotto i 115 dollari, quindi anche Apple ha avuto la sua flessione. Torniamo un pochino a vedere i mercati nel suo complesso, come abbiamo detto una grande corsa, nessuna paura, quindi stiamo comunque attenti, non esageriamo sia con gli sconforti, nel caso dovessero continuare a scendere i mercati, ma neanche con l'euforia, nel caso i mercati dovessero continuare a correre, i comportamenti sempre devono essere tenuti in maniera corretta, è importante mantenere comportamenti corretti per poter ottenere nel lungo termine i propri risultati e raggiungere i propri obiettivi. Possiamo vedere come nell'ultimo mese, tutto sommato, il valore attuale del Nasdaq sia a livelli superiori rispetto a quanto registrato 30 giorni fa, stessa cosa per lo Standard & Poor's, possiamo vedere dal grafico come siamo comunque abbondantemente sopra i livelli di 30 giorni fa, e tutto sommato anche gli indici azionari europei stanno comunque viaggiando su livelli in linea con quanto quotavano 30 giorni fa, in questo caso siamo davanti all'Eurostoxx 50. In particolare io pongo questo quesito, potremmo essere davanti a una rotazione settoriale, cosa vuol dire? Dopo che in questi mesi hanno corso tantissimo i titoli tecnologici e in realtà sono rimasti un pochino più sacrificati, altri titoli un pochino più da cassettisti, potrebbe essere che i grandi gestori, ma anche i grandi investitori prendano profitto, si diciamo stiano accontentando, fra virgolette, visto i grandi rialzi, dei guadagni fino ad ora ottenuti, i siti utili tecnologici come Apple, Microsoft, Amazon, mettiamoci Facebook, mettiamoci Tesla, anche le new entry, NIO, tanto per fare un altro nome, e si stiano riposizionando su titoli un pochino più tradizionali, andiamo a vedere infatti cosa è successo sul Dow Jones, indice azionario di 30 azioni, ricco di azioni più tradizionali, possiamo vedere American Express è in salita, 3M, classico titolo da cassettista, ha retto benissimo l'urto, Caterpillar anche in positivo, Cisco appartiene ai tecnologici, però siccome sta raggiungendo insomma livelli interessanti, Coca-Cola addirittura è, andiamola a vedere vicino ai massimi dell'anno, una reazione straordinaria, in questo mese vediamo un pochino l'andamento a un anno, addirittura quotava 60 dollari, però negli ultimi mesi si è veramente svegliata la grande dopo un piccolo letargo, diciamo durante la fase estiva, scendendo possiamo vedere IBM anche sta tornando su prezzi interessanti, la classica Johnson & Johnson, un colosso, questa qui non la ferma veramente nessuno, il picco negativo di marzo è stato ampiamente riassorbito, e stiamo tornando sui massimi storici, vediamo il grafico massimo, siamo veramente vicinissimi ai massimi di sempre per Johnson & Johnson, McDonald's, anche che sto seguendo da qualche settimana, è comunque vicino ai massimi, ha risentito chiaramente nell'arco dell'anno della pandemia, chiusura anche di alcuni punti vendita, nessuno ci andava però si è ripresa veramente alla grandissima, Microsoft è calata nelle ultime sedute, però vi adda su livelli molto molto elevati, vedete il grafico dell'ultimo anno, scendendo un pochino, possiamo vedere Procter & Gamble, un'altra di quelle azioni che difficilmente tradiscono, Verizon, una delle mie azioni preferite, dividendo molto molto solido, un'azienda che appartiene al settore telefonico, dividendo del 4% ben coperto dagli utili, addirittura un rapporto prezzo utili di 13 punti, veramente bassissima, soprattutto se confrontata con altre azioni, non so, se prendiamo ad esempio Tesla, Apple scusatemi, poi andiamo anche su Tesla, Apple vi ha da suo rapporto prezzo utili di 36 punti, quindi quasi il triplo rispetto a Verizon, e Tesla invece, qui siamo veramente fuori controllo, viaggia su rapporto prezzo utili, addirittura di 1076 volte, chiaramente non sono settori comparabili, però non bisogna neanche, diciamo, fossilizzarsi sul rapporto prezzo utili, per dire un'azienda è interessante o meno, bisogna fare tantissime altre valutazioni, però possiamo dire che potremmo, qui magari, date la vostra opinione, potremmo essere davanti a una rotazione settoriale, che nell'arco della storia abbiamo comunque, a cui abbiamo assistito più volte. La cosa positiva è che, tutto sommato, questi cali che ci sono stati sul mercato, non sono dovuti a notizie particolari, quindi potrebbe essere uno storno fisiologico, dopo la grande corsa, ricordiamo che uno storno può essere anche di livelli importanti, quindi magari un meno 10, meno 15, anche meno 20%, potrebbero quindi aprirsi in condizioni di economia, diciamo, sostenibile, e di economia comunque in fase di ripartezza, potrebbero aprirsi occasioni di acquisto interessanti, magari anche su titoli un pochino snobbati dagli investitori negli ultimi mesi. Chiaramente c'è sempre da tenere le orecchie ben dritte, vedere cosa sta succedendo, se dovesse scattare una serie di vendite, potrebbe anche crearsi un panico, magari ingiustificato sul mercato, con crolli repentini, in quel caso dovrebbe essere comunque abbastanza veloci per cogliere le eventuali opportunità che si presentassero. Nel caso invece il calo magari sia un pochino più graduale, chiaramente difficilmente la ripartenza sarà AV, ma magari si riparte in maniera graduale per una crescita sostenibile nel tempo. Quindi grandissimi punti di domanda per le prossime settimane, chiaramente io aspetto le vostre opinioni nei commenti a questo video. Come sempre mi trovate anche sugli altri canali social, esprimete pure le vostre opinioni liberamente, possono essere anche in disaccordo con me, naturalmente non siamo tutti uguali, l'unica cosa che vi chiedo come sempre è mantenere uno stile di scrittura civile, sono al mio canale YouTube, non mi piacciono le persone prepotenti, eventualmente sarebbero comunque bannate ed escluso dal canale, non mi interessa avere un seguito alto, ma un seguito di followers di qualità, cosa che sta avvenendo e cosa per il quale ringrazio tutti voi. Allora, con oggi abbiamo finito, ci vediamo la prossima settimana per vedere cosa succederà. Un caro saluto a tutti e buona domenica.